Il gol del 2-0 Sanchez Pensa al tiro Lo prova da lontanissimo Mignolet in due tempi Vente che Westwood di prima dentro Pallone per Cleverly Colpisce male Mette alto sopra la traversa Secondo pallo a cercare Skirtel che la prende Borini Poi Gusan sul pallo Non è finita Can ancora dietro Ederson Ancora Gusan Era in fuorigioco Però stavolta Borini Lancio con il destro Occorre stacca di testa Pente che in era di gore Pente che Mignolet Con una gran parata Non è finita Vai ma dentro c'è Caragol Ancora Mignolet Parte Delf Il pallone proprio per Baker Che gira di testa Ma alto sopra la traversa José Enrique Centralmente per Lucas Leiva Zona tiro Prova Leiva La piazza Ma trova una gran parata Di Gusan A mettere in calcio D'angolo Lambert Zona tiro Lambert guarda la porta Lambert Trova l'angolo Basso Ricky Lambert Nel momento migliore Della Stonvilla Chiude la partita 2 a 0 Entrando dalla panchina Segnala Lambert Segnala Lambert 4 a 0 Grazie a tutti.